Stefano Vecchi con Marco Terrenato Sì grazie Gabriele, siamo con Stefano Vecchi Inter che dunque ha c'è dalle semifinali meritatamente avete preparato molto bene questa gara fin dall'inizio avete messo in difficoltà la Roma grande aggressività e poi l'avete chiusa nel momento in cui la Roma stava provando a raggiungere il pareggio Sì abbiamo fatto molto bene i primi 30-35 minuti poi siamo calati un attimino hanno avuto un paio di situazioni e di occasioni di occasioni importanti loro e poi nel secondo tempo abbiamo concesso veramente molto poco nonostante loro premessero molto e abbiamo avuto di contro delle buone occasioni noi per fare il secondo poi l'abbiamo chiusa alla fine L'impressione è che fisicamente l'Inter abbia vinto questa partita tanti contrasti vinti appunto dal punto di vista fisico l'Inter sembra superiore in questo momento alla Roma Ma questo non lo so sicuramente è diciamo così la cosa sulla quale dobbiamo farci forza quest'anno l'aspetto fisico l'agonismo l'aggressività e poi vengono fuori anche le doti e le qualità di Pinamonti di Baldini di Appia sul gol alla fine poi escono anche queste cose quest'anno ripeto siamo una squadra che deve far forza sul gruppo sull'aggressività su queste qualità e quando lo facciamo riusciamo a mettere in difficoltà anche delle squadre molto forti come la Roma segnate tanto con tanti giocatori questa è un po' la vostra caratteristica si segnano in tanti perché comunque cerco di alternarli visto che ripeto siamo un organico un gruppo abbastanza omogeneo per cui spesso e volentieri cambiamo e per fortuna e per bravura loro c'è sempre qualcuno che la butta dentro semifinale con la Lazio ci sarà andata e ritorno prima però una grande sfida in campionato perché c'è la sfida al vertice con il Chievo si adesso sabato ci aspetta una partita importante abbiamo il Chievo avanti un punto e iniziamo il campionato poi poi vedremo penseremo anche alla Coppa Italia allora grazie a Stefano Vecchi complimenti ancora per questa vittoria buona serata